Si mette male l'inizio della settimana per Bitcoin ma anche per le altre cripto, Ethereum soprattutto, molto più debole anche del previsto, infatti proprio in questo momento quando sto registrando Bitcoin inizia una fase di leggera flessione che dovrebbe essere proprio quella conclusiva del ciclo settimanale e del ciclo forse anche mensile di Bitcoin ma un po' troppo prematuro. A dirlo però dovrebbero essere queste le fasi. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video Rassegna Cripto, video recap della settimana, quelli che sono le analisi, le previsioni e le news di Bitcoin su Bitcoin, Ethereum e altre cripto per tutta la settimana la parte grafica, quindi la parte che riguarda cosa attenderci dal prezzo dei mercati cripto. Guarderemo come sempre anche i dati di natura economica perché c'è il calendario economico della settimana da andare a guardare. Come sempre ci sono soprattutto delle giornate importanti per quanto riguarda il tasso di inflazione e in particolar modo dovremmo andare anche a controllare poi quelli che sono le aspettative per il FONC che avverrà a novembre. I tassi sembrerebbero non alzarsi, anche questa volta c'è un po' un problema anche sulla questione del debito americano. Ormai ne avete sentito parlare, debito che aumenta in maniera veramente impressionante. Ecco il giochino del contatore del debito ragazzi, veramente qui abbiamo 33 mila miliardi di debito, c'è da dire che però bisogna guardare anche poi dei dati che sono un po' più oggettivi, cioè il debito per un percentuale al prodotto interno lordo. In questo momento è al 123%, certamente molto alto per una economia importante come quella degli Stati Uniti, ma non il più alto, il Giappone è molto più alto, l'Italia è molto più alto. Quindi in sostanza poi bisognerebbe andare a guardare anche queste cose. Certo il tasso di crescita attuale dovuto proprio ai tassi di interesse è notevolmente cresciuto. Questo potrebbe impattare nell'immediato futuro per quanto riguarda le scelte della Banca Centrale Americana e quindi i tasti di non tirarli su è possibile, ma l'inflazione sarà il volano, come sempre sarà quello che ci darà le indicazioni corrette. Allora, iniziamo subito, prima di iniziare però c'è lo sponsor del video di oggi che è sempre NordVPN, ragazzi, perché c'è una super offerta anche in questo caso, fino al 17 di ottobre per ottenere fino a 4 mesi extra sul piano biennale di NordVPN dal link che vi lascio in descrizione. 4 mesi extra aggiunti al piano biennale per quanto riguarda NordVPN. Allora, la VPN per quanto riguarda i mercati delle cripto, l'ho spiegata già diverse volte, può essere utilizzata per coprire le vostre tracce quando ad esempio aprite un wallet nuovo, c'è il SID che appare, non fare in modo che il vostro segnale, quindi quello che è la vostra connessione, l'IP e tutti i vostri dati siano esposti pubblicamente. Quindi la VPN un po' nel settore delle cripto non è un must ma quasi, ragazzi, perché sostanzialmente in alcune cose che si vanno a fare, avere un po' un coperchio, un tappo davanti che non ci fa essere scoperti, tra virgolette, non ci fa vedere esposte magari le SID, insomma quello che stiamo facendo, quale wallet stiamo utilizzando, può essere interessante. E poi è utilissimo per la questione degli exchange che non sono utilizzabili, per esempio in alcuni paesi e lì potete andare a inserire la VPN spostandovi in pratica all'IP e in sostanza potete andare a utilizzare anche quella cosa. Mi piace anche molto di NordVPN e l'ho detto anche l'altra volta, la questione è legata alla sicurezza delle password e un password manager secondo me è l'app per eccellenza, insomma che bisogna avere in maniera assoluta, ecco, perché come fate a gestire le password senza il password manager. Vi lascio il link in descrizione, come sempre, quattro mesi extra gratuiti per quanto riguarda NordVPN e sul sito andate poi a verificare tutte quelle che sono sostanzialmente le loro feature, le loro funzioni, ma le più importanti secondo me sono proprio la protezione dai malware, legata appunto alla copertura dell'IP e poi la questione legata alla cifratura anche della rete, se state lavorando con altri colleghi perché fate una rete l'anno e la cifrate, è poi legata alla questione del password manager. Andiamo a vedere quelli che sono i dati macro di questa settimana, attesa spasmodica per giovedì 12 ottobre, il tasso di inflazione degli Stati Uniti atteso in leggerissima riduzione dopo le impennate che erano avvenute nei mesi precedenti, perché in mesi precedenti il tasso di inflazione era leggermente rimbalzato, infatti il minimo dell'anno 2023 non è quello attuale ma è stato quello di luglio al 3%, poi salito al 3,2%, poi risalito al 3,7% di settembre. Ora la previsione è di vederlo leggermente in discesa, in sostanza come se a livello grafico per gli amanti dei grafici avessimo avuto un swing di rimbalzo di un 1-2-3 classico che poi dovrebbe portare alla conclusione del movimento ribassista del tasso di inflazione. Quanto è importante quindi che da qui il tasso di inflazione inizi sostanzialmente a virare, quindi a girare per ritornare a scendere. Attenzione perché la riduzione a teta è balorda, cioè non è grande, quindi in pratica è più una stabilizzazione del tasso di inflazione che comunque non è basso, era meglio fosse intorno al 3%, anche questo ha spinto in pratica tutti i mercati, anche quelli obbligazionari, ho fatto un video dove spiego appunto il corso sulle obbligazioni, dove vi spiego che cosa fanno le obbligazioni, è importantissimo ragazzi quel video lì, per cui andatevelo sostanzialmente a studiare perché nei prossimi mesi l'analisi delle obbligazioni e dei rendimenti obbligazionali degli Stati Uniti sarà fondamentale anche per le cripto, ve lo svelo poi nei prossimi video e tireremo fuori appunto dal cappello quest'altro argomento, quest'altro trend da andare a verificare un po' costantemente nei prossimi mesi, ne parliamo comunque in questa settimana. Richieste di sussidi di disoccupazione praticamente invariate, c'è stata la questione del non farm payroll la scorsa settimana che è salito in maniera eccessiva rispetto all'attese, molti dicono è un dato dovuto alla doppia occupazione di alcune persone che non ce la fanno a tenere il loro tenore di vita insomma eccetera. La questione però da un punto di vista di mercati e di impatti sui rendimenti dei titoli di Stato e quindi sulla idea che i tassi siano alti per tanto tempo non cambia che sia il primo lavoro di una persona o il secondo lavoro di una persona, non cambia perché il tasso di disoccupazione è ancora troppo basso, troppo basso negli Stati Uniti e se alcuni continuano a occuparsi anche con seconde manzioni, quindi vuol dire che hanno il tempo di fare queste seconde manzioni, creano comunque spese al consumo, questa spesa al consumo crea ancora crescita e purtroppo questa cosa in questo contesto storico può incidere negativamente sul tasso di inflazione andandolo a sostenere ancora in maniera troppo ampia. Un po' uno shock occupazionale deve avvenire, piccolo, controllato, questo è quello che vuole la Fed, ma deve avvenire una mini recessione controllata, una soft lending, qui non c'è stato nessun lending e questo è il discorso, è troppo forte ancora il sistema economico, quindi il gioco delle banche centrali sarà quello di tenere sul filo del rasoio, di far scattare questa inflazione, questa recessione, farla arrivare ma non renderla pericolosa. Questo è il discorso, ma deve arrivare. Il tasso di disoccupazione è ancora troppo basso per quanto riguarda gli Stati Uniti, deve salire intorno al 4-5%, questa è la questione. Allora, detto questo, i dati, per quanto riguarda i dati, diciamo ci sono anche i verbali del PONC mercoledì, io farei occhi puntati giovedì rigorosamente per quanto riguarda questa cosa. Attenzione che però per il PONC dell'1 novembre, il meeting dove la Fed decide il tasso, la previsione attuale è che i tassi non vengono rialzati. Probabilmente un po' la paura di questi tassi eccessivi c'è. C'è da dire però che a livello di analisi Bitcoin e anche TH ha iniziato la sua fase di declino. Doveva venire a dire la verità entro domenica questa cosa qui, tant'è vero che io ho pubblicato il video di fare attenzione al weekend, perché a livello ciclico c'era la possibilità che il weekend fosse estremamente rumoroso. Invece è stato un weekend laterale e poi ha scaturito tutto nella giornata di ora. Insomma, in questo momento candele da 90 minuti, quelle che io utilizzo per l'analisi dei cicli di Bitcoin di breve periodo, questa è la sua struttura ciclica o la fate ternaria o la fate binaria, in sostanza dovrebbe chiudersi a momenti con un minimo. Questo minimo che dovrebbe avvenire entro massimo l'11 di ottobre, 10-11 di ottobre, quindi dovrebbe essere imminente la chiusura ciclica a livello settimanale su Bitcoin, dovrebbe poi innescare un nuovo movimento rialzista. Questo nuovo movimento rialzista è la chiave di lettura di tutta questa fase di Bitcoin, cioè il successivo ciclo, non questo qui, perché il successivo ciclo può essere un terzo movimento che in effetti va a dettare legge sul fatto che se ottobre diventa una candela verde e raggiunge dei livelli importanti che vi faccio rivedere perché ne abbiamo già parlato, oppure no. Se non lo fa si va in close del ciclo annuale e la previsione un po' più classica, diciamo quella più consona, quella più teoricamente normale per quanto riguarda il lato ciclico, è proprio quello che si vada a chiudere il ciclo annuale. Questa candela è l'ultimo baluardo in pratica che stiamo andando a disegnare per reggere un trend long, capite bene il significato già di questa candela in price section, ragazzi, candela mensile di ottobre per quanto riguarda il Bitcoin, una candela del genere, peggio ancora, se diventa rossa, vi spiega già tutta la questione, cioè questo movimento diventa un ABC correttivo che poi spinge a un minimo inferiore e quindi chiusura del ciclo annuale probabilmente attesa verso fine anno, quindi novembre-dicembre mesi ribassisti. Questo è il discorso, potrebbero essere insomma ribassisti con una probabilità molto più elevata. Quindi questa candela è l'ultimo baluardo, se questa candela invece riesce a diventare verde e a ritracciare quasi tutto il long black candle del mese di luglio, dovrebbe essere agosto, agosto, eccolo qui, allora ci sono possibilità che la forma ciclica di questo ciclo annuale di Bitcoin sia differente, con una struttura diversa, diciamo, da quella standard, e solo in quel caso potremmo assistere a un tentativo verso fine anno addirittura di fare nuovi massimi, quindi esattamente l'opposto, lo so, è normale che sia così, ma è questa candela che lo va a definire, e quindi il mese di ottobre è importantissimo, essendo che stiamo chiudendo il ciclo, come vi dicevo, mensile, che potrebbe anche essere il mensile, ma su questo non ci giulerei, è troppo corto, poi starei un po' a guardare, una chiusura del genere, che innesca poi una fase di eventuale recupero, eventuale ripresa, e sarà proprio la fase di eventuale ripresa che ci dà le risposte. Certo, già una chiusura profonda di Bitcoin in questo contesto preciso non lascia ben sperare, in particolar modo, già se questa struttura mi va a breccare il livello di questa barra di congestione, come sembrerebbe intenzionato a fare, e soprattutto questa media mobile, che è la media mobile a 21 giorni, magari lo fa domani con uno swipe, così, poi la recupera, ok, ma se la brecca in maniera consistente, per brecca non significa, ragazzi, una cosa del genere, questo non è il brecca di una media, questo è il touch di una media, perché le medie non sono precise al dettaglio, non possono essere dei guanti che agguantano il prezzo, il prezzo scilla intorno agli indicatori, questi non sono dei brecca, non sono sufficienti a innescare dei brecca, che ecco perché le medie non si usano a livello operativo, cioè come trigger operativi, ma si usano come indicazioni di sorta, un touch della media, così come ha fatto, e poi il recupero non è anomalo, e ci sta, invece un break con un long black andro, che va al di sotto dei 26,7, per esempio, e mi tocca ai 26,4, diventa un vero break, che è quindi un'inversione di trend, a quel punto anche un altro recupero sarà probabilmente difficile, e potremmo assistere a un evento del genere, quindi la naturale conclusione del ciclo annuale, con questo ciclo iniziato all'11 di settembre, che evolge poi, diventerebbe poi ribassista, come naturalmente l'analisi ciclica ci impone, perché a livello classico, la teoria ciclica ci dice, che essendo nel quarto quadrante del ciclo annuale, andate a rivedere il video, di spiegazione dei quadranti ciclici, essendo nel quarto quadrante, noi dobbiamo avere passe di bassista, però in alcune situazioni, questo non si verifica, perché ci sono delle eccezioni, soprattutto nei cicli ternari, ed è quella l'unica possibilità, te la sto svelando un po', magari facciamo poi questa settimana, anche il video su questa cosa, così ne parliamo, e non volevo farlo, perché fino a quando non è iniziato il nuovo ciclo, che vi sto dicendo, è inutile farlo, perché confondiamo solo le acque, e non abbiamo le idee, però sappiate che questa cosa l'ho già spiegata in Academy, settimana scorsa, l'ho già detta, ed è finita per far preparare tutti quanti, a livello operativo, doveste avvenire una cosa del genere, e sono tutti pronti, però a livello pratico, a livello di probabilità, è meno probabile quella più, la più probabile è quella classica, la standard, cioè da qui in close, annuale verso dicembre, quindi è una cosa che spiego più volte, per far capire questi discorsi, a livello di candele daily, non c'è una modifica, a livello di analisi tecnica, del trend di bitcoin, iniziato l'11 settembre, probabilmente questo è un nuovo trimestrale, ciclo trimestrale di bitcoin, che dura di solito, tra i 70 e i 90 giorni, a volte esagera, poi fa anche 100 e passa, e questa struttura, è proprio chiave, perché ragazzi, qui vedete, la forma classica, la M classica, non di Mauro, ma dei cicli, classici, che è così, quindi da qui, impone, di attendere questa chiusura, e poi, aspettare, perché, un'eventuale fase di ripresa, può avvenire solo, nel momento in cui, questo ciclo, è stato chiuso, è stato concluso, nel momento in cui, questo ciclo è stato concluso, e avviene magari, una fase di reazione, di bitcoin, se è forte, allora siamo, in una buona prospettiva, per la questione, di ottobre, altrimenti, si va tutti, ehm, negli sfogliatoi, come si suol dire, per una metafora calcistica, si attende poi dicembre, novembre, dicembre, insomma, ecco, che, e dovrebbe esserci, questa fase di, di close, andiamo a vedere, Ethereum, molto più debole, delle attezze, non mi è piaciuto, per niente, perché questa campana, eh, rialzista, era molto, ghiotta, per il tentativo, di breccare, il livello di resistenza, importante, che erano, i 1750, in effetti, approvato, non c'era neanche, in questo punto, una grande, eh, eh, fascia di liquidità, da andare a prendere, non c'era nulla lì, a dire la verità, perché, il livello, era qui, eh, in questa zona, quindi, era qui, che è stata magari, presa la liquidità, poi, quindi, lo spuntone rialzista, non c'entrava nulla, quindi, in sostanza, ha dato molto adito, a, mh, poter creare più forza, per la regina delle cripto, cosa che non è avvenuta, attenzione, che anche qui, abbiamo un inizio di un ciclo, probabilmente trimestrale, eh, Ethereum li fa un po' più corti, rispetto a Bitcoin, vediamo, se da qui inizia un nuovo ciclo, perché, teoricamente, i dati ci dicono, che i minimi sono crescenti, i massimi sono crescenti, nonostante questa fase di declino, continua a essere, mh, non modificato il trend, eh, tecnico, quello di natura statistica, e potrebbe essere un trappolone gigantesco, questo livello qui, ragazzi, ok? Perché qui c'era tanta liquidità, da andare a prendere, soprattutto, degli amanti dello short. C'è da dire, però, che, eh, insomma, mh, non so, ragazzi, mi spuzza un pochino, perché, un ribasto, intanto, Ethereum c'è la questione del doppio ciclo annuale, sapete come funziona, ve l'ho spiegato, perciò, potremmo essere in una fase di, pesante chiusura del ciclo annuale, perché, non sappiamo quale delle due view, sia valida, se il ciclo annuale attuale è iniziato a giugno o a novembre, con Bitcoin, se è iniziato a novembre, qui siamo in close, andiamo in close dell'annuale, e se è iniziato a giugno siamo in close dell'annuale, quindi, anche un minimino ci sta entro pochi giorni, quindi, è una fase delicata per Ethereum, però, non mi piace mai vedere il mercato, che va a regalare punti d'ingresso ai long, che sono rimasti fuori dal palo, invece, chi era rimasto qui, ragazzi, fuori dai giochi, ci restava, e come, e qui, quindi, nel momento in cui questo saliva in questo modo, tutti quelli che qui si aspettavano una fase di passista, di ETH, erano rimasti al palo, quindi, perso il treno, andavano in, nella classica pomo, e poi, spingevano ulteriormente il prezzo, quindi, vedere invece una fase di ribasso, che scende, e da un secondo ingresso, a chi rimane fuori dal trend, la vedo, leggermente, una follia, sono sincero, è difficile che il mercato faccia cose del genere, però, vediamo, insomma, i mercati ultimamente, sono diventati un po' più standard, devo essere sincero, rispetto alle anomalie tecniche, fanno molte shadow, però sono più standard, pessimo, quindi, atteggiamento, quello di ETH, tant'è vero che anche a livello, della candela, su Bitcoin, ha fatto, una perdita di forza relativa, enorme, ragazzi, perché, è 5, è 62, di forza relativa in meno, rispetto a Bitcoin, nella candela, del settimana del 2 ottobre, e questa settimana, già inizia con un meno 84, quindi, assolutamente, pessimo, atteggiamento, quello di ETH, che perde il 7% di forza relativa, rispetto a Bitcoin, solo in una settimana, e in pochi giorni, insomma, l'inizio di questa, tanto è vero che dichiara, che questa fase, ancora non è stata chiusa, era vero, anche l'altra volta, vi dicevo, che mi aspettavo, cioè, è stato troppo leggero, la chiusura tecnica di ETH, rispetto a Bitcoin, è ancora in fase, questo ciclo annuale, probabilmente iniziato, ad aprile, che cos'era, questo aprile e maggio del 2000, giugno 2022, questo ciclo annuale, di ETH, quindi, ancora contro Bitcoin, ancora in voga, non ha fatto il suo minimo, vediamo, se disegna qualcosa, sembrerebbe, diciamo, volto ad attendere, il classico scivolone, però, non vedo questa volatilità, nel mercato attuale, bisogna andare a, tentoni, secondo me, e ad analizzare i prezzi, veramente, in questo caso, settimana per settimana, cosa vi aspettate voi, su ETH, invece, mi interessa saperlo, ho idea di crearvi, un nuovo grafico, completamente diverso, che andrà ad analizzare, modificato, chiaramente, perché non esiste, il trading view, che andrà ad analizzare, tutto il mercato crypto, escluso Ethereum e Bitcoin, per capire, come si sta muovendo, ed avere un indice, di riferimento, a livello ciclico, che ci dà, l'impatto, dei cicli, e l'indicazione ciclica, importante, su eventuali fasi, di alt season, perché, proprio in questi contesti, di perenne declino, di stagnazione, di disgusto, direi così, del mercato, e le crypto, si trovano, le super occasioni, e bisogna fare tesoro, di questi momenti, sono i migliori, di tutti quelli, che cambiano la vostra vita, ragazzi, quindi imparate, a eliminare, la parte emotiva, soprattutto, quando i mercati, vi forzano la mano, e vi fanno sentire, che, non vi piace stare lì, a guardarli, non vi piace, tradare quel mercato, non vi piace più, questo mondo, quando succede questo, occhi attenti, focus, sui grafici, focus sui mercati, perché lì, cambiano le regole, ragazzi, è il modo in cui, il mercato, butta fuori, la massa, non siate massa, ciao a tutti, buon inizio, settimana,